Devo dire una cosa che mi hanno detto a me, il loop genetico. Comunque, il loop genetico hanno detto che io ho bisogno di un maestro di sostegno. A me mi ha fatto troppo ridere, perché io ho bisogno di un loop sborrigenico. Se il loop sborrigenico, io lo chiamo così, se io ho bisogno di un maestro di sostegno, te cosa hai bisogno, caro loop genetico? Il loop sborrigenico di qualcuno che ti assista come una casa di riposo? Eh? Caro loop sborrigenico, io ho bisogno di cosa? Io sono una persona normale, il loop sborrigenico dei miei coglioni. Non ho bisogno del maestro di sostegno, il loop genetico dei miei coglioni. Sei te che sei vecchio, e i capelli bianchi ormai, che hai bisogno di qualcuno che ti imbocca. Con quella tua figlia, che ha i capelli viola, che sembrava un pennarello colorato, indelebile. Con quei capelli che hai, il caro loop sborrigenico. Eh? Che tua figlia ha i capelli colorati, ma non fosse un pennarello indelebile. Ho bisogno di assistenti sociali che ti imboccano, vecchio come sei, ho bisogno pure i due occhiali per guardare, per vedere. Non è la sua figlia il suo compagno, Matteo. E che cazzo ne soi? Comunque la compagna, figlia, ha sempre il pennarello indelebile lì, in testa, i capelli viola, il loop sborrigenico che dice che io ho bisogno dei maestri di sostegno. Ma fate una cittura, andate con te due, te e la tua compagna di m***a che ti hai a fianco. C***o, 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 il loop sborrigenico dei miei c***o, i testi di c***o. Il pennarello viola, ecco. Il pennarello viola c'hai in testa, indelebile. Ma dai, f***o, ho bisogno dei maestri di sostegno. Te lo faccio io il maestro di sostegno a te. Che te per camminare, chissà, per allungare quel c***o lì che è in mezzo alle gambe, quanti viagre ti fai per farti anche quel pennarello umano indelebile della tua compagna a fianco. Che c'è, dai, dai. Io ho bisogno di chi? Del maestro di sostegno. Ma batte una c***o, va. Il loop sborrigenico dei miei c***o, i testi di c***o. Te la tua compagna, il pennarello umano indelebile che c'hai in fianco a te. Ho bisogno del maestro di sostegno. Ma ti venisse, oh. Ma ti venisse uno di quelle cagate che stai a vita in bagno, col pannolone poi, che ti porti il pannolone, altre che non tante. E poi quel pennarello indelebile umano che è lì a fianco, che sarà più giovane di lei, che sarà giovane solamente per fare alzare quel c***o in mezzo alle gambe. Tant'è questa ric***o che dice che ho bisogno delle maestre di sostegno. Tanto io è maestro di sostegno. Io sono una persona normale.